Con l'uno Gresy Valsan, Marcello Vecchione, il due Ghost Robin in Salchi al quale Crescenzo Maione sostituisce Vincenzo Luongo, il tre Gabor Disa, anche qui cambio di guida, Vincenzo D'Alessandro Junior al posto di Enrico Bellei, al quattro Gaeta North, Mario Minopoli Junior, al cinque Gund Model Antonio Simeoli, al sei Good Lover Roberto Vecchione, al sette, Gin Tonic Breed, Pierluigi D'Angelo, seconda fila, otto, Golea Dorga, Etano Di Nardo, nove, Greta Garbo Trebb, Giusi, Savarese. Quando mancano adesso esattamente 200 metri allo stacco della macchina. Parte molto piano Gabor Disa, numero tre. Allo stacco c'è lotta tra Gresy Valsan, Gaeta North e Good Lover che insiste e passa. All'imbocco della prima curva Good Lover leader su Gresy Valsan, Gaeta North che si sistema in terza posizione a precedere Gin Tonic Breed. Poi ancora Ghost Robin, lunga fila indiana comandata da Good Lover che ha preso qualche lunghezza di vantaggio a Gresy Valsan. I 400 dal palo fino a qua in 30 scarso per Good Lover con Roberto Vecchione che ora cerca di graduare in salchi all'allievo di Holger Ellert, tanto che si riavvicinano Gresy Valsan, Gaeta North, Gin Tonic Breed, Ghost Robin e ancora Greta Garbo Trebb. All'esterno ha mosso Goliador che è l'unico impegnato in seconda ruota dopo questi 800 metri in 1-2-2 da parte del favorito Good Lover che precede sempre di alcune lunghezze Gresy Valsan. Gaeta North sposta Gin Tonic Breed dalla quarta posizione e avanza al salchi di Gresy Valsan. Good Lover che comanda sempre con sicurezza nei confronti di Gresy Valsan, Gin Tonic Breed dall'esterno, Gaeta North terzo in corda come si era messo dal via, quindi Ghost Robin con all'esterno Goliador, Ghost Robin che ha problemi e confonde il passo quando mancano ormai 700 metri all'arrivo e Good Lover comanda sempre in scioltezza su Gresy Valsan, Gaeta North e Gin Tonic Breed dall'esterno. La quinta posizione è stata ora acquisita da Goliador. Gresy Valsan che avvicina Good Lover sposta all'esterno ai 500 finali. Il miglio completato in 2-3-4 da Good Lover ora impegnato da Gresy Valsan. Ingresso in retta d'arrivo con Good Lover alla corda, Gresy Valsan all'esterno, la terza posizione sempre per Gaeta North e con Good Lover. che reagisce all'attacco di Gresy Valsan che ora deve ripiegare nuovamente in scia all'avversario. Good Lover allunga e conclude ancora in piena spinta per andare a vincere molto nettamente con Roberto Vecchione davanti a Gresy Valsan e sempre Gaeta North. Come si erano messi al via? 6-1-4, primo, secondo e terzo in corda dalla partenza e anche all'arrivo. 2-33 secco sul mio cronometro per gli ultimi 2000 metri, quindi media chiusa forte per Good Lover, Roberto Vecchione, per Olga Rerte e i colori Jean-Pierre Bargion, media che dovrebbe essere intorno all'1-16-3-1-16-4 considerando i primi 100 metri sicuramente veloci con Good Lover che vedete nel finale stacca da Gresy Valsan che pure aveva tentato l'attacco ai 400 finali e deve accontentarsi della piazza d'onore nei confronti di Gaeta North. 6-1-4 l'arrivo ufficioso e la linea che torna allo studio a Milena e Matteo. Grazie a tutti.